appena ha appena cominciato e 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 behind his eyes are you and me where are you? where are you? you are and you are here for a show? yeah do you like? yeah Grecia 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 delicious wow 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 wow